Sì, sì, no, no, sto qua perché ne appoggio, sì, no, no, io sto qua, no, te lo dicevo per te se eri più favorevole qua. No, l'unico piacere, sì, mi riesce a signare qualcosa, perché non si comincia, non riesce a recuperarla, c'è un'alzio, Gazzaneo, 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 è un'alzio, 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 Grazie 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 Grazie